A Borgo Mezzanone ci sono una scuola, una chiesa, due bar, un supermarket, poche centinaia di abitanti e soprattutto migliaia e migliaia di immigrati. Una parte abita nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, la stragrande maggioranza di loro sulla cosiddetta pista. Sappiamo che la pista è un luogo off limits, ci sconsigliano tutti di andarci. Proviamo a chiedere qualche notizia a ragazzi diretti lì. Non è facile vivere lì, noi siamo alla pista, adesso hai visto come adesso non c'è il corrento, c'è tante cose che mancano, hai visto. Decidiamo di avventurarci, non è facile arrivarci, sembra un percorso di guerra. Sulla strada notiamo diverse discariche a cielo aperto, ma è nulla rispetto a ciò che troveremo dentro. Questa è la famosa pista di Borgo Mezzanone, qui ci troviamo alle spalle, o meglio di fronte al cara di Borgo Mezzanone, una struttura pubblica e controllata. Qui invece vige l'anarchia totale, qui ci sono migliaia di extracomunitari che si sono, come potete vedere, accampati con strutture di fortuna. Hanno costruito baracche, ci sono roulotte, sono posizionate su una vecchia pista, una pista di atterraggio che è lunga alcuni chilometri. Fuori dal campo notiamo un giovane emigrato, lì chiediamo se possiamo entrare, se può mostrarci qualcosa. Inizialmente lui a fare le domande, teme che siamo poliziotti, che siamo lì a caccia di auto urbate. In effetti dopo le baracche costruite praticamente una sull'altra, è la prima cosa che balza gli occhi. Macchine dappertutto, smontate e non. Il nostro amico viene avvicinato da alcuni connazionali, ci dice che è meglio se non alziamo la telecamera. Decidiamo di restare qualche minuto fermi lì e ne approfittiamo per capire meglio chi vive in quel campo. E' gente che evidentemente non può stare altrove. Il primo soggiorno di sei mesi è scaduto da tipo tre anni. Ah, voi dovresti andartene? Eh, sì. E quindi sei costretto a stare qui, diciamo, in modo abusivo? Sì, almeno vado a lavorare nel campo, a trovare qualcosa di mangiare. E riesci a lavorare? Sì, pare. Quanto ti pagano? Pagano 4 euro e 50 l'ora. 4 euro e 50 l'ora? Sì. E' giornata forse 25 euro per avere qualcosa nella tasca, ma non pagano così subito. Cominciamo il nostro giro, siamo sulla pista e notiamo subito che il cara è praticamente attaccato a questo ghetto. E che ci sono immigrati che entrano ed escono indisturbati. Dalla pista stanno passando nel cara, guardate, riescono ad entrare tranquillamente, c'è un buco nella retina e lì vanno anche per lavarsi, per altri servizi che evidentemente qui non riescono a ricevere. Ecco, guardate, c'è un immigrato che sta uscendo, c'è una pattuglia della guardia di finanza che passa e questa è una situazione tollerata. Nel campo ci sono molti animali, cani, gatti e persino pecore. E che ci sono pecore? Dove? Queste? Sì. E che ci fanno poi le pecore? Le mangiate. Eh? Le mangiate. Ve le mangiate? Sì. Incrociamo un uomo in accappatoio e scopriamo le docce, che poi in realtà è un luogo dove potersi lavare con un tubo. Sono tutte baracche di fortuna, c'è sporcizia ovunque. Questo è il luogo dove questa povera gente si fa le docce. Qui non c'è raccolta dei rifiuti, non passa nessuno, non c'è il servizio di igiene urbana. Quindi i rifiuti che pure vengono prodotti vengono gettati direttamente nel campo. Solo poche baracche hanno la corrente elettrica, di riscaldamento naturalmente neanche a parlarne. C'è pochissima acqua in questo campo, però qualcosa c'è da dove attingere, ma è veramente qualcosa di indicibile. Proviamo in vano a chiedere se qualcuno ci fa entrare nella sua casa, ma le risposte sono tutte negative. Capiamo che forse è arrivato il momento di andare via.